Benvenuti a Romeo Podcast, sicurezza a colazione. Io sono Marta Sangalli e in regia c'è Giulia Rosano. Nella puntata di oggi parleremo di sicurezza sul lavoro prima ancora che il lavoro inizi, ovvero durante la fase di selezione del personale, e approfondiremo l'aspetto della comunicazione sulla sicurezza. In questa chiacchierata sarà con noi Vittorio Borgo, fondatore di GeoJob, la prima agenzia per il lavoro dedicata esclusivamente alla ricerca e selezione di personale tecnico nell'ambito dell'edilizia, della costruzione e dell'ingegneria. Buongiorno Vittorio e grazie per aver accettato il nostro invito. Vorrei partire dalla fase di selezione del personale e chiederti. Durante un colloquio per un candidato nel settore delle costruzioni generalmente vengono valutate l'esperienza, le capacità, la formazione specifica. In questo quadro, che posto occupa la sicurezza sul lavoro? Grazie Marta per l'invito. Ritengo fondamentale questa opportunità che offre la Romeo Safety di parlare di sicurezza soprattutto quando siamo all'interno del settore delle costruzioni. In fase dei colloqui per la selezione del personale nell'ambito del settore dell'edilizia e delle costruzioni, affrontiamo sempre gli aspetti legati alla sicurezza perché riteniamo sia un tema molto importante da approfondire con i candidati. Il nostro team cerca di capire se il candidato è consapevole dei rischi legati all'ambiente di lavoro e se è in grado di adottare comportamenti sicuri per sé e per gli altri. Poniamo alcune domande durante i colloqui. Alcune di queste domande sono quali rischi più comuni sul cantiere edile? Come gestiresti una situazione di emergenza sul cantiere? Hai mai avuto esperienza di lavoro in ambienti con rischi specifici per la salute e la sicurezza? Quali sono le norme di sicurezza più importanti che devono essere rispettate sul cantiere? Hai mai partecipato a corsi di formazione sulla sicurezza o a quali corsi hai partecipato? Quindi in generale riteniamo che il candidato oltre ad avere una preparazione tecnica si dimostra di avere una buona conoscenza delle norme di sicurezza e che mostra di avere una mentalità orientata alla prevenzione dei rischi sul lavoro, secondo noi ha maggiori possibilità di essere serizionato per il lavoro. Oltre ad avere una buona conoscenza in ambito di sicurezza, è importante anche sapere comunicare la sicurezza. Quanto conta la comunicazione all'interno di organizzazioni e cantieri e quanto pesa una comunicazione fatta in modo sbagliato o non efficace? La comunicazione è estremamente importante all'interno di un'organizzazione e soprattutto all'interno dei cantieri. Una buona comunicazione consente ai lavoratori di scambiarsi informazioni, coordinarsi, lavorare in modo efficace. Una comunicazione adeguata consente di gestire le emergenze in modo tempestivo e soprattutto previene i rischi per la sicurezza sul lavoro. Quando c'è una carenza di comunicazione e le informazioni non girano all'interno dell'organizzazione in maniera corretta, possono emergere diversi problemi. Porto alcuni esempi legati un po' all'esperienza. Per esempio, ritardi nella realizzazione del lavoro. Se i lavoratori, ritengo, non fossero adeguatamente informati sugli obiettivi e sui tempi di lavoro, portano inevitabilmente il ritardo al termine dei lavori. L'aumento dei rischi per la sicurezza. Perché è importante che all'interno del cantiere ci siano tre fattori. L'informazione, la formazione e l'addestramento. Sono tre cardini fondamentali per prevenire comunque gli infortuni. Problemi di coordinamento. assolutamente se non sono coerenti le informazioni che girano, c'è un problema legato all'esecuzione dei lavori. Quindi ci possono essere delle incomprensioni che portano inevitabilmente ad affrontare dei rischi. La mancata soluzione dei problemi. Se i lavoratori non comunicassero eventuali problemi o criticità sul cantiere, questi potrebbero non essere risolti in tempo utile. Concludo dicendo che in generale una carenza di comunicazione o di ricezione delle informazioni può avere un impatto negativo sulla produttività, sulla sicurezza e sulla qualità del lavoro svolto. Dunque è sicuramente importante la comunicazione, ma altrettanto importante è l'esempio. Ci sono problemi o criticità che potrebbero essere risolte con l'esempio giusto? Assolutamente sì. Spesso il comportamento di una persona può influenzare il comportamento degli altri. Per esempio, quando si tratta di situazioni lavorative in cui i membri del team si guardano l'un l'altro per capire come agire, un esempio giusto può quindi essere molto efficace per risolvere alcune problematiche. Se sul cantiere c'è una carenza di attenzione sulla sicurezza sul lavoro, il comportamento esemplare di un responsabile o di un collega che rispetta le norme di sicurezza e adotta comportamenti sicuri può incentivare gli altri a fare altrettanto. Quindi creare una cultura della sicurezza sul lavoro all'interno dell'organizzazione porta sempre dei vantaggi competitivi. Primo perché c'è una minore incidenza di infortuni, secondo perché si raggiungono quegli obiettivi economici che tutte le imprese oggi ricercano. Di contro, se c'è una mancanza di collaborazione e di coordinamento tra i membri del team, il comportamento esemplare di un leader che incoraggia la collaborazione e che lavora in modo trasparente e aperto può incentivare gli altri a fare altrettanto, creando una cultura della collaborazione e del teamwork all'interno dell'organizzazione. Quindi un esempio giusto può essere molto efficace per risolvere alcune problematiche perché influenzare positivamente il comportamento degli altri membri del team e promuovere una cultura positiva all'interno dell'organizzazione apporta sempre una miglioria all'interno di tutto il sistema organizzativo. Concludo dicendo, non lasciamo che gli infortuni succedano per fatalità. Il nostro comportamento può salvare delle vite ed evitare inutili sofferenze. Grazie Vittorio, condividiamo e facciamo nostra la tua considerazione finale. Grazie a tutti voi che ci avete seguito, l'appuntamento è alla prossima storia di sicurezza.